eh 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 il nano dove? il nano? oh! e sparite il nano! ehi! non è possibile perchè stava per terra sparite in un nano secondo a ste pattute di merda eh eh si eh si eh bravi benissimo è stata la terraia a vita eh ehi sa di booba qua senti che booba c'ha la negrone che c'ha ah e calla eh è stato sascia qui cose di razzi ah booba intanto è il personaggio mio io posso giurlo eeeh boccifi bianchi allora cosa hai questa? attacchi minetti questa è l'ultima no? eh troppo ahi già eh ma lei si mette davanti ma lei mi mette davanti realmente posso sparare senza il nano raga giochi dove? vola e raggio ma già sto a 50 hp madonna mi non tengo manco il medikit poi io sto a 58 eh ma ora prepariamoci per tre eh perchè molotov mololop ma dove stanno i medikit? stanno sparsi da una non accendete quello fuoco da non accendete un cazzo eh da nulla sta pure defibrillatore qua eh qua pure no io sto a mettere un po' di robe sparse qua mette robe io sto cercando un medikit eppure io sto a cercare un medikit è possibile ci sono sempre stati stanno qua comunque stanno qua quattro ce ne stanno qua molotov qua lo sto io c'è quello che fa rivivere qua qua e qua sopra stanno i eh perchè ormai sto KO qua eh che facciamo? li usiamo e poi ne ripiamo? eh io devo ce ne stanno altri si non ce ne stanno altri no io ho dovuto aver forse vabbè tu usalo e io che faccio? c'è quello che fa rivivere eh vabbè 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 qua non c'è nulla ma le armi qua sta l'adrenalina sopra le armi ok una K qua ci sono bombe flash bellatore quale lo sta vabbè la droga qua c'è una una tanica dove le va a me dove la metto tutto il settore retto va al centro vabbè al centro c'è stanno già i fuochi d'artifici quindi? ah sta la K eccola qua ma metto quando state due? metti sulle scale qua qua aspetta, putt'a terra 100 le scale ce ne sono putt'a terra, putt'a terra stanno già zombie qua dietro ditemi quando avviare la console io direi di salire sopra qua mettetevi su qualcosa ma non c'è chi la torre è mia prima è meglio in due perchè uno spara e l'altro guarda perchè salgono sopra tutto il tank sparo io spara quelli giù io se salgono perchè tengo la katana vedi vado vado guarda che a posto di pomodori se mi hai pistola e dove sta la pedaliera a terra al microfono che pezzo cosa la pedaliera, dove la pedaliera raga sto senza medikit ma come sto senza medikit e non ne ho più sei qualcosa ma ste luci stanno a fare una figura di merda dagli spettatori posso buttare via ma perchè tu ti entri là sopra ma perchè qua scendi cinese questa è la torre cinese questa è la torre di fratelli negri questa è un video diventato questa è la torre del ghetto vai via ecco le offese vai giù dai via la corrente ma c'è questa quell'altra che cosa raga qua inizia a buttare catanate posso vada inizia a buttare catanate qua morite raga se mi muovo la katana qua vi faccio vado vado da eduardo no no ma tu sali col hunter sali 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 vieni qua vieni con il difendi loro questo che mirate sta sempre alla montagna qua mi effetto io cazzo splitter dietro eeeh grid lo abbiamo tagliato da qua questa scala è una macella è rinca ah ah ma ora arrivano i tanki non è buono no eeeh andate alla strada possiamo guardar vicenda dalle due torse eeeh andate alla torse ma non possiamo stare con i tanki che arrivano molte ecco ma arrivi chi è? fa pure l'effetto speciale volete che tiro una molotov al centro? no no dove stanno i tanki eeeh 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 hunter hunter eeeh 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 qualcosa altro vaga non vii 122 colpi devi andare a prendere in da sti momenti così sennò rimani senza eh e stanno a terra qua sotto dove cazzo stanno eeeh è fatto una cazzata ma ti sei lanciato ma ti sei lanciato ma capito ragazzate di coach 50.000 kg boh ha sentito che soste parola scura di cui ha blu ce li lanciate annaggia a voi e denuncia e denuncia qua aiutano tutto prima che succederò ha ancora preso il put bravo ciasc non stai non stai stanno qua qua va proprio saltando stanno arrivando stanno arrivando l'elicotter vedete così che mi fate vinaggia che posti di bordo? dobbiamo saltare sull'elicotter è scherzato a bordo a bordo a bordo perchè lui è a bordo e lui ha fatto il santo a bordo perchè lei mi stanno vuoi stare dicendo che il mio personaggio è classico? no 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 voi stai dicendo questo ah mi stanno chiamando piano piano ma è proprio questo il tuo ergo è pesato se non ci muoviamo si ma i krill lo stanno inculando ti stanno ai mostri bugati ti stanno ai mostri bugati vedi che poi ti rallentano una cifra dai sai non volevo vedere Christian non ce l'ha fatta in ricordo niente in ricordo maledetto sascia solo ha tenuto la chi perchè ormai perchè non l'avevi fatta e nella realtà il Teng comunque ci avrebbe distrutto l'aereo non puce non puce e la realtà che l'arguabile